In una delle pubblicità più belle e famose degli anni 90 c'è Carl Lewis King in avanti, come se fosse sui blocchi di partenza dei 100 metri. Ha lo sguardo fisso e concentrato, i muscoli del corpo tesi, ma ha i piedi, ha un paio di scarpe con i tacchi. Quella pubblicità aveva uno slogan memorabile, la potenza è nulla senza controllo. Neanche il grande Carl Lewis avrebbe vinto con un paio di scarpe con i tacchi. Non serve avere potenza se non si è capace di usarla. Non serve avere qualcosa da dire, un'idea originale, una storia forte, se non siamo capaci di dirla nel modo giusto. In questo corso cercheremo di imparare a dire le cose nel modo giusto, nel modo migliore. Cercheremo di imparare a trovare quello che Flaubert, uno dei più grandi scrittori e riscrittori di tutti i tempi, chiamava le mots juste. Cercheremo di imparare come si sceglie e si dispone un aggettivo, come si rafforza una metafora, come si ordina una lista di nomi, come si sceglie un verbo, come cambia un'espressione, cambiando la posizione di alcune parole e come e quando si usano certe figure retoriche. E arriveremo a capire come si costruisce una frase e poi un paragrafo e poi un'intera pagina. Prenderemo qualcosa che avete scritto voi, le prime due o tre pagine del vostro racconto, del vostro romanzo, oppure qualcosa di breve che vi daremo da scrivere e analizzeremo quel testo a fondo, riga per riga, parola per parola. E dopo che lo avremo analizzato, proveremo a riscriverlo meglio e poi a riscriverlo ancora. Riscrivere un testo, diceva Floberra, fa quello che l'acqua dello stice faceva al corpo di Achille. Lo rendeva invulnerabile, indistruttibile. Io sono Simone Barillari e vi aspetto al nuovo corso online della Scuola Onder, l'arte di riscrivere.